Vittorio Bellone, una vittoria importante, schiacciante, forse che va ben oltre quelle che erano le aspettative della vigilia. Assolutamente, una vittoria fatta, l'ha regalata a me, ma è una vittoria di tutta la squadra. Da domani si ricomincia, abbiamo smesso da poco, ricominciamo subito domani con quello che era il nostro programma e quelle che sono le attività e i lavori già cominciati nei mesi scorsi. Quanto è importante per il vostro gruppo, per l'amministrazione uscente, adesso è in tante di nuovo, ripartire e continuare i progetti già avviati? Diciamo che da oggi non abbiamo più alibi, sperando che questa pandemia ci lasci in pace per un po'. Abbiamo avuto due anni travagliati e adesso ricominciamo guardando al futuro in maniera positiva e cercando di integrare tutte le persone che sono state votate e quelle che non sono state votate perché ognuno di loro ha qualcosa da dare a questo comune. Sindaco, qual è stata l'arma vincente del vostro gruppo? Quello che abbiamo seminato negli ultimi cinque anni, sicuramente non le promesse elettorali, che tutti siano capaci a farle. La gente a noi ha votato e ha premiato quello che abbiamo fatto e, egoisticamente parlando, lo posso dire con un po' di ego, forse la mia presenza sul territorio e il mio stare in mezzo alla gente che continuerà per i prossimi cinque anni. Con la vostra squadra quali sono le priorità che vi siete posti? Le prime due sono quelle già avviate, in parte. Uno è la costruzione del primo lotto del marciapiede che va in via Busano, al lavoro già appaltato, comincerà nei prossimi mesi, massimo nel primo mese di settembre. Un consolidamento statico di questo edificio che attualmente ci ospita, che ospita i seggi e poi per settembre un po' di allegria per tutti con una bella festa in piazza, così come quella di inizio giugno. Hai una dedica particolare? Dedichi a qualcuno o qualcosa questa vittoria? Dedico a tutte le persone che mi sono state vicine, quelle che pur vicine non mi hanno visto per parecchi mesi, la mia compagna Paola in particolar modo e poi tutta la squadra perché è stata veramente fantastica. Quindi essere di nuovo riconfermato è sicuramente una vittoria anche personale di Vittorio Bellone? È una vittoria mia, sì, ma è una vittoria di tutto il gruppo, ma non solo del gruppo che è stato candidato, del gruppo che ci ha supportato e di tutti i cittadini che mi hanno voluto bene quanto io ne voglio loro.